Sì, 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 certo Siamo arrivati alla Goigna Non è stata una buona passeggiata Ora, domandatevi perché io non invito nessuno a fare queste cose Perché la gente resta in mare Bisogna sapere quello che si fa Il Dow Wind a 100 km Qua non è per tutti Questo non è il mattirreno Quindi può essere quello che fare Passerò, acquattano ci tornate